A Neri è in programma la terza giornata del campionato di serie di giorni D, di fronte Rimini e Tritium. Gli ospiti allenati a Tricarico si affidano al 4-3-3, stesso modulo adottato da mister Marco Gaburro, arbitra la gara il signor Marangone di Udine. La padronanza del Rimini e Nette si vede già in avvio quando Gabbianelli arriva facilmente al tiro, non inquadrando lo specchio della porta. Due giri di lancette, lo scambio, Gabbianelli-Tomasini porta a tiro la corrente e Tonnelli, migliore, si rifugia in corner. Sempre solo Rimini, all'ottavo arrivano a tre le conclusioni verso lo specchio della porta con il colpo di testa di Pannelli respinti in qualche modo da migliore. All'undicesimo Rimini passa meritatamente, da calcio di punizione nasce questo pallone scodelato in area della Tritium dove nasce una mischia che favorisce sotto misura la deviazione vincente di Taras al suo secondo gol di stagione dopo aver bucato alla prima la porta del Prato. Al ventiduesimo Rimini perviene al raddoppio con Ferrara ma la rete viene annullata per posizioni offside di quest'ultimo. La Tritium non ha segni di reazione, Tonnelli inventa per Tomasini che sfiora il raddoppio con deviazione in corner da parte di migliore. Sui sviluppi della bandierina Pannelli stacca di testa ma la sfera esce fuori di un nulla. Monopolio Rimini-Tanas ancora una volta presente in area avversaria arriva facilmente alla conclusione che si perde di un nulla al lato. In chiusura di tempo Marangone di Udile decreta un penalty per un fallo di motta su Gabbianelli. Dal discritto si presenta lo stesso attaccante che sigla così il 2-0. Squadre a riposo sul doppio vantaggio per i biancorossi. Nella ripresa il numero di Tonnelli spedisce la sfera sulla testa di Tomasini, in questo caso comoda presa per migliore. Il tris arriva poco dopo, Gabbianelli direttamente a calcio piazzato fa capire cosa ha imparato nei percorsi in carriera. Migliore non è perfetto nel piazzamento, forse disturbato ma rimane la prudezza del numero 10 biancorosso. Gli ospiti si vedono solo al tredicesimo della ripresa con un tio dalla distanza in Montalbano che commissiona il pallone in bocca a Marietta. Nell'extra time c'è gloria anche per i baby peci. Germinale rubapalle serve proprio al giovane attaccante di scuola biancorossi il pallone del poker. 4-0 e via la festa con gli amici della curva. Rimini padrone assoluto del campo, Tritium assente, ingiustificato.